Proseguono nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino gli incontri del Caffè Letterario, occasione per conoscere opere di autori ed editori piemontesi. Questi i prossimi incontri di dicembre. Giovedì 4, Le avventure di Pinocchio, tallone editore. Giovedì 11, Il canto dei presepi, interlinea editore. Giovedì 18, Brucia Milanima di Marco Travaglini, impremix editore.